La Borsa di Milano chiude positiva insieme alle altre piazze europee dopo i dati del PIL dell'Eurozona del terzo trimestre, in crescita del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2016. È in buon rialzo anche Madrid, che avanza dello 0,7% dopo il rally di ieri. A Piazza Affari sono in forte rialzo CNH, dopo i conti del trimestre, e Mediaset, che accelera oltre il 2%. Le banche sono in fondo al paniere. Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca sono tra le peggiori dell'indice.